Il giorno di Viterbesi Avellino con i Lupi che si apprestano a giocare la prima vera partita di campionato dopo il rinvio del match contro la Turis di domenica scorsa. Allo Stadio Rocchi andrà in scena l'anticipo del girone C alle 20.45 e Mister Braglia, che attende ancora un paio di rinforzi dal mercato, ha comunque quasi la rosa completa a disposizione per provare il colpaccio. Da valutare le condizioni di De Francesco a centro campo, se non dovesse farcela in cabina di regia ci andrà Silvestri. 3-5-2 per i Lupi con forte tra i pali, dovrebbe esordire dal primo minuto il difensore Luigi Silvestri, arrivato una settimana fa in Irpinia, con Capitano Miceli e Rocchi a completare il pacchetto arretrato. In mediana, detto di De Francesco, dovrebbero esserci Alloi e D'Angelo come mezzali, che avranno il compito di rompere le trame di gioco dei laziali di Mister Maurizzi, orfani dello squalificato Tunkara. Sugli esterni non ci sono dubbi, Ciancio a destra e Tito a sinistra. In attacco Braglia potrebbe riproporre la coppia, Maniero-Santaniello. Grande curiosità per vedere all'opera il nuovo Avellino in attesa di sparare gli ultimi due colpi. Zennaro lunedì dovrebbe diventare un nuovo calciatore bianco-verde, mentre per l'attacco si aspetteranno le ultime ore, quando mancano ormai solamente due giorni alla fine del calcio mercato. Stasera seguiremo la partita tra Viterbese ed Avellino con Stadio e Studio, a partire dalle 20.15 per il pre-gara e poi sempre in diretta dallo Stadio Rocchi per gli aggiornamenti sul match dei Lupi, fino ad arrivare al post-gara con le voci dei protagonisti.